Il modulo abitativo estensibile a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha festeggiato il primo anno di missione. Sviluppato dalla Bigelow Aerospace in partnership con la NASA, BIM ha fornito dati importanti sul comportamento dei materiali e delle strutture espandibili nell'ambiente spaziale. Gli astronauti a bordo della stazione lavorano con i ricercatori a terra per monitorare la sua resistenza alle sollecitazioni termiche, alla crescita microbica e agli impatti esterni con possibili detriti. Utilizzando il Radiation Environment Monitor, inoltre, è stato possibile rilevare il livello di radiazione cosmica presente all'interno del modulo, che si è scoperto essere simile a quella presente in altri moduli della stazione. BIM, avendo masse e volume inferiori a quelli dei modelli abitativi in metallo, potrebbe aumentare l'efficienza delle spedizioni cargo, riducendo il numero di lanci necessari e i costi complessivi di missione. I test proseguiranno per migliorare il livello di protezione per future missioni di lungo periodo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!